Nonostante le piogge di questi giorni, la crisi idrica si sta facendo devastante per il Veneto e sono in molti a chiedere che vengano riattivati i progetti delle banche dell'acqua. In vasi piccoli e grandi, in grado di contenere l'acqua nei periodi di pioggia o del diselo, per poter poi gestire la risorsa quando fa più comodo. La Pedemontana guarda da decenni al bacino del Vanoi, del quale si è parlato molto, ma se ne è parlato e basta. Oggi il PD, nell'ambito di un pacchetto di proposte per combattere la crisi idrica, rilancia i microinvasi e mette sul piatto anche il Vanoi. Sui microinvasi non è stato fatto ancora nulla. Noi li aspettiamo perché è il modo migliore e più versatile per affrontare la crisi climatica che in questo momento dà una grossa siccità, ma che fra qualche mese potrebbe darci anche l'effetto contrario. Ormai non si può più parlare di un'emergenza, siccità o di una crisi idrica perché la situazione è diventata cronica, come una malattia. Quello che dimostra questo cambiamento climatico è che non c'è più una vera emergenza ma c'è una cronicità di questi effetti e quindi bene o male nel corso degli ultimi decenni la portata e la quantità di pioggia e di neve che cade nella nostra regione va sempre calando ed è per questo che bisogna utilizzare delle infrastrutture più versatili, più flessibili, come i microinvasi che hanno un bassissimo impatto nel territorio e che sono più usufruibili da imprese e cittadini. Proprio nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Brenta ha ottenuto un finanziamento ministeriale per la progettazione dell'invaso del Vanoi. Ma c'è ancora molta strada da fare e il rischio è che il piano senza supporto da parte delle istituzioni torni nel cassetto in cui è rimasto per 60 anni a prendere polvere.